Simone Campinoti, Confindustria Empolese Valdelsa, delega alla responsabilità sociale dell'impresa. Che cosa mi aspetto? Forse dobbiamo fare più che parlare, però diciamo che c'è una sensibilità maggiore a questi temi, specialmente anche in ambito Fabrica 4.0, che è strettamente collegato alla responsabilità sociale. Il futuro sarà disegnato in maniera diversa dal passato e quindi bisogna inventarsi soluzioni nuove per compatibilizzare questi mondi che si stanno toccando anche di conseguenza alla globalizzazione. È una sfida che noi dobbiamo vincere necessariamente per avere un futuro.